Quattro persone originari di Bagnera Calabra in provincia di Reggio Calabria, tra cui un 27enne incensurato ma nipote di un pluri pregiudicato, arrestato nell'operazione crimine, ritenuto elemento di spicco delle cosche della piana di Geatauro e gli altri tre con precedenti penali, si erano infiltrati tra i portatori della statua della Madonna di Polsi in occasione dei suoi festeggiamenti. Lo scorso 2 settembre hanno ricevuto un foglio di via e per tre anni non potranno recarsi nel paese di San Luca. I festeggiamenti della Madonna di Polsi, lo ricordiamo come noto, attirano ogni anno migliaia di turisti e fedeli da tutta la Calabria, dall'Italia e dall'estero. Molti emigrati in particolare approfittano della ricorrenza per tornare nella regione d'origine ed esprimere devozione alla Madonna. Ogni anno la riproduzione della statua mariana viene portata in processione dai pellegrini di Bagnera Calabra, i quali per l'occasione vestono una tunica di colore celeste e bianco con foulard al collo.